Buongiorno, bentornati a Quante Storie, oggi oltre che appoggiarci sul titolo Gli uomini che fecero l'impresa e capirete perché, vorrei partire dal titolo del libro dal quale prendiamo le mosse, occhi di lupo, cuore di cane, leggervi davvero poche righe sono in una giungla piccolo e devo cacciare, papà ma tu sei un animale feroce? No campione, io ho gli occhi del lupo ma il cuore di un cane, annuso le piste giuste, sono fedele e se incontro te stai sicuro che scodin solo pure è il dialogo di un rapporto molto presente in questo libro che è la storia peraltro di un agente della DIA, la vita invisibile di un agente della DIA della Direzione Investigativa Antimafia. Diana Lagorio, scrittrice e sceneggiatrice, l'ha scritto nella collana peraltro curata da Roberto Saviano, Munizioni, benvenuta. Grazie a voi. Abbiamo anche il privilegio di avere con noi nei nostri studi il direttore della DIA della Direzione Investigativa Antimafia che ha passato diversi anni, anzi gli anni chiave in Sicilia come giovane poliziotto tra l'89 e il 93 e poi ha avuto una serie di incarichi ha lavorato anche contro il clan dei Carasalesi, se la parola contro è corretta ma credo di sì direttore benvenuto anche a lei ovviamente e a partire da occhi di lupo, cuore di cane racconteremo l'avventura della DIA e soprattutto l'inchiesta che portò alla cattura di Luca Bagarella. La vita difficilissima degli agenti della DIA, gli uomini che fecero l'impresa nel titolo di oggi e immaginiamo che parlare di questo, che significa parlare soprattutto di mafia, di mafie, susciterà in voi molte curiosità e molte domande. Lo dico guardando Stefano Gallerani. Buongiorno Giorgio, buongiorno ai nostri ospiti, per intervenire quante storie chiocciovarai.it e twitter e facebook. È un libro che entra dentro la vita degli agenti della DIA, però vorremmo partire dal presente o dal recentissimo presente, la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle mafie tra Milano e Casal di Principe dove è andato il nostro presidente Mattarella, qui facciamo vedere le parole di Don Ciotti e poi un ritaglio di giornale con una dichiarazione del presidente significativa. Da crimine organizzato mafioso si è passati a crimine normalizzato. Nella testa della gente è una delle tante cose, ma non può essere una delle tante cose l'usura, il traffico delle stupefacenti, il traffico degli esseri umani, l'ecomafia, l'agromafia, il gioco d'azzardo. Non possono essere una delle tante cose. E dicevo del ritaglio dalla dichiarazione del presidente della Repubblica, Mattarella Casal di Principe incontra gli studenti e dice una frase che rimanga al vecchio bufalino, i mafiosi temono più la scuola dei giudici, cioè mandare migliaia di maestri. In tanti anni, mi rivolgo prima a Maurizio Vallone, direttore della DIA, poi entriamo nella vita della DIA e degli agenti con Diana Ligorio, in tanti anni di sul campo. Che ha capito lei, direttore? Tante cose, immagino però. Che questa frase è assolutamente giusta, ma lo dicevano tante persone industri prima di noi. Una scultura, una scuola, qualcosa che viene visto dai mafiosi male. Perché se si dà alle persone la capacità di ragionare, la capacità di pensare in maniera autonoma, una storia che c'è all'espanghe delle nostre tradizioni, nel nostro paese, gli si dà gli strumenti per combattere la mafia, gli si dà gli strumenti per essere soggetti attivi nella lotta contro le mafie. Tra l'altro il direttore Vallone ha conosciuto Giovanni Falcone, poi lo vedremo, e che immagino avesse anche un'idea del genere, oltre ad avere straordinarie intuizioni. Sia che Giovanni Falcone, sia Paolo Borsennino, ma tutti i magistrati del Pum Antimafia di quel periodo andiavano frequentemente nelle scuole a incontrare gli studenti, nelle università, perché ritenevano che fosse un momento fondamentale di crescita di questi ragazzi, fargli conoscere la realtà delle mafie che ancora non era conosciuta come lo è oggi, dopo le stragi e dopo tanto lavoro fatto dall'antimafia, fargli conoscere quella realtà e fargli dare quegli stimoli, quegli strumenti per poter essere loro protagonisti della lotta alla mafia, perché i giudici non bastano da suoi, le forze dell'ordine non bastano da suoi. Diana Ligorio, entrare nella testa, nella vita, diciamolo subito, difficilissima di un agente. Ora mi dicevate una cosa che capisco sia dolorosa, nel senso che il tasso di separazione tra chi fa l'agente della DIA, ma in generale il poliziotto, il carabinio, è più alto che della media nazionale, perché sono vite difficilissime. Come è entrata in quelle vite? Allora, intanto io ho conosciuto personalmente diversi agenti della DIA, perché abbiamo realizzato in occasione del trentennale della Direzione Investigativa Antimafia, un film documentario che è andato in onda anche su Rai. Di cui tra l'altro vedremo adesso un estremo. E quindi ho avuto questa grande occasione e questo privilegio di entrare nelle loro storie. Poi per scrivere Occhi di Lupo e Cuore di Cane mi sono concentrata invece sulla storia di Palermo, quindi all'indomani della strage di Capaci. Io con loro ho avuto degli incontri e dei colloqui, poi in particolare con alcuni che erano protagonisti di quegli anni dell'inchiesta di Palermo. Posso dire che si è stabilito una sorta di patto di fiducia tra di noi, nel senso che loro si sono sentiti che potevano in qualche modo aprirsi e io mi sono fidata anche un po' dei loro ricordi e della loro voglia di raccontare. Perché adesso sono uomini di 60 anni. Ora sono uomini di 60 anni, alcuni sono prossimi alla pensione, però la maggior parte di loro sono in pensione e stanno facendo i conti anche con il loro passato. Un passato in realtà che per loro è come se fosse sempre presente, perché pur essendo stata una scelta di vita che ha avuto un prezzo altissimo per la loro famiglia, per gli affetti privati, in realtà rappresenta anche il periodo più vivo e più motivante della loro esistenza, è proprio il fondamento della loro persona. Infatti in un passaggio del libro, quando racconto in realtà il protagonista che è in pensione, lui dice chi sono io adesso, per una vita io sono stata invisibile, adesso io chi sono? E' un po' questa una cifra che a me ovviamente narrativamente mi sembrava estremamente interessante, che però fa capire qual è il prezzo che questi uomini hanno pagato. E devo dire anche che una domanda che ho fatto durante questi incontri era una domanda ovvia, cioè ne è valsa la pena e loro hanno risposto di sì. Quindi questo che mi ha dato ancora più stimolo nello scrivere questo romanzo, perché io ascoltando le loro storie ho avvertito proprio questa urgenza, un'urgenza dovevo fare qualcosa e nel mio caso voleva dire soltanto raccontare questa storia. Vediamo un frammento del documentario al quale faceva riferimento Diana Rigorio. Nelle ore successive alla cattura io ho assistito a una scena di un collega che ha offerto un panino al signor Bagarella Leoluca e ricordo la risposta del signor Bagarella Leoluca, io panino vostro non mangio, io non mangio un vostro panino. Nell'atto di offrire il panino noi abbiamo dato in quel momento l'immagine dello Stato, perché il nostro desiderio era proprio quello, confermare la forza dello Stato. E in tutto questo, nel raccontare queste cose, mi viene tanta nostalgia. Sono in dia dal 1992, veni assegnata immediatamente dopo l'assassinio dei giudici Falcone Morvillo e degli uomini della Scorda e mi sento ancora figlia della strage di Capaci, un evento che ha assegnato il mio vissuto di investigatrice. Rigorio, esattamente quello che diceva lei, sulla nostalgia anche per un po' io, in cui si sentiva servitore o servitrice dello Stato. Loro sì, la cosa più affascinante di questa missione che loro sentono è che loro personificano uno Stato nascosto, invisibile. Quindi il loro impegno nella missione della giustizia non è per un riconoscimento, per una medaglia, per una gloria, no, ma perché giustizia venga fatta. E questo discorso che fa l'investigatore di Palermo del gesto del panino, io l'ho trovato estremamente significativo. È vero. È vero, assolutamente vero. È significativo perché in quel momento, con quel gesto, lo Stato nascosto diventa visibile. Cioè diventa visibile nel comportarsi correttamente anche con chi è mafioso. Che poi, direttore, l'atteggiamento che aveva a Rina. Cioè, voi siete altra cosa da me. Sì. Soprattutto in questo gruppo stragista di Cosa Nostra, quello che poi ha portato all'effettuazione delle due grandi stragi e alle stragi continentali, che non dimentichiamo che poi ci sono state le stragi di Via di Gergofi, di Milano, di Roma, che hanno fatto tante vittime innocenti e tante altre ce ne sarebbero state se non fossero stati fermati. Era un atteggiamento di antagonismo allo Stato, di porsi su uno stesso piano dello Stato, tant'è vero che nella trattativa, nella volontà di intrattenere una trattativa con lo Stato, come se loro fossero un antistato, come fossero un qualcosa che si poteva contrapporre allo Stato. Per fortuna le capacità investigative dei magistrati e delle forze dell'ordine in quegli anni, la capacità di tenere sanda quella che è stata una struttura del nostro paese, una struttura sociale e una legislazione che ne è nata, una legislazione sì d'emergenza ma non straordinaria, ha consentito poi di contrastare con efficacia questo sistema. Dietro strutture come la vostra c'è poi soprattutto, ma non soltanto perché ora ascolteremo delle parole secondo me molto nobili, l'intelligenza di quest'uomo. Pensare che tutto dipenda esclusivamente da me, significherebbe addossarmi, sarei prontissimo ad addossarmelo se fosse utile, ma non lo è, tutta la responsabilità della volta la mafia, questo è sbagliato, tutto questo è profondamente ingiusto nei confronti di colleghi, ma soprattutto dimostrerebbe il fallimento, perché sarebbe, e questa sì è una volta di Don Chiusciotto e Don Trimodini, di fronte a questa piovra invincibile che l'abbiamo creata noi, mentre siamo uomini come noi. Lei era conosciuto, mi diceva poco fa, un uomo particolare, no? Sì, quello che dice, che diceva Gianni Falcone è assolutamente giusto, però bisogna poi riconoscere che ci sono persone che sono diverse da anche altre, persone che hanno una visione molto più ampia, una visione che guarda al futuro, che è capace con una grande determinazione, con un grande carisma, di dare qualcosa in più che consente poi di fare dei salti di qualità nella lotta alla mafia, e lui sicuramente era uno di questi, dalla sua capacità di comprendere le cose di mafia, nasce una capacità di comprendere come combattere la mafia, quindi la creazione della DIA, la creazione della direzione nazionale antimafia, quindi di creare quelle strutture interforze o di coordinamento che dessero centralità alla lotta alla mafia e ancora noi oggi godiamo di quello che erano le sue idee, in Italia è l'unico paese al mondo che ha delle strutture destinate esclusivamente a contrastare la creazione dell'organizzazione. Immagino, direttore, che il metodo si sia poi aggiornato con le tecnologie, nel senso che si è evoluto, ora avete strumenti immagino raffinatissimi. Abbiamo strumenti sicuramente molto diversi da quelli che si avevano nel 1991, anche grazie a quello che è successo nel 1991, perché a seguito di quei gravissimi fatti e dell'attacco frontale a uno Stato che è stato portato avanti a tutta ordina, ci siamo dati strumenti normativi e poi tecnologici molto più avanzati. Vigorio, tra l'altro i protagonisti di questa vicenda si mettono in azione e investono loro stessi, le loro vite anche dopo le stragi che vedono uccise tante persone, tanti servitori e servitrici dello Stato. Esattamente, molti di loro mi avevano raccontato che in quegli anni non erano in tanti anche delle forze dell'ordine che avevano questo piacere di andare giù, perché era una realtà, oltre alle stragi venivamo da tantissimi anni di omicidi e loro partono, ma è la cosa che mi ha colpito molto di questa storia, loro lasciano le famiglie e arrivano a Palermo e Palermo è una città militarizzata, c'era l'operazione Vespri Siciliani, per strada c'erano carri armati, esercito, c'era il coprifuoco, la sera oltre alle 9 non c'era nessuno in giro e loro oltre a lasciare le famiglie e non dire loro dove erano, che cosa facevano, perché era un modo per tutelare loro stessi, la loro famiglia e il lavoro, loro erano giovani, avevano dai 25 ai 35 anni, a me questa assumersi una responsabilità del genere, una missione da sentire così forte, da unire loro tra colleghi come fratelli, mi ha colpito in una maniera veramente molto profonda. Ora vediamo un frammento del film di Marco Bellocchio, Il traditore, in cui vediamo l'interrogatorio a Tommaso Buscetta, qui interpretato da Favino, ma in realtà ripetente le parole vere dell'interrogatorio. Dice una cosa sulla struttura della mafia che è molto interessante perché vorremmo capire se ancora oggi è così la struttura. La mafia non esiste, la mafia è un'invenzione giornalistica, Cosa Nostra si chiama, noi uomini d'onore la chiamiamo così, lei si deve figurare una piramide, alla base di questa piramide ci sono i soldati, io sono un soldato, un soldato semplice e il soldato fa giuramento di fedeltà assoluta a Cosa Nostra, per tutta la vita non si esce da Cosa Nostra. Tre famiglie formano un mandamento con il suo capo mandamento e al vertice di questa piramide al punto più alto c'è la commissione, con il suo capo commissione che viene eletto da a tutti i soldati di tutte le famiglie. Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra con l'antica più di 40 anni fa. Direttore, prima di cominciare questa traduzione l'ho chiesto ma è possibile che sia ancora in cui si vota. Per certi versi si vota, non con un'elezione come quella a cui siamo abituati, ma sicuramente per certi luoghi si votava quantomeno. Già nel momento in cui Buscetta parlava già c'erano dei nuovi assetti all'interno di Cosa Nostra, i corgnonesi stavano prendendo il controllo dell'intera organizzazione e già c'era tra virgolette molta meno democrazia all'interno perché comandavano soltanto i corgnonesi e come facevano anche con le armi. Oggi siamo in forme ancora più evocute, gli attacchi della magistratura e delle forze dell'ordine, gli arresti continui tendono a far ritirare sempre di più un'organizzazione su retrovie ed è sempre più difficile per una commissione riunirsi o rinnovare i suoi ranghi man mano che i capi vengono arrestati. Poi in occhi di lupo e cuore di cane si arriva al momento al culmine di questa lunga, delicata, difficilissima inchiesta, cioè l'arresto di Luca Bagarella. Lucchino Bagarella aveva scelto bene, con accuratezza, il luogo dove trascorrere parte della sua latitanza. Si sentiva sicuro in questo palazzone nel pieno centro storico di Palermo, si sentiva talmente sicuro da non curarsi troppo del fatto che proprio di fronte abitano due importanti magistrati del pull antimafia, con tanto di scorte e militari che presidiano giorno e notte. In questo condominio di Via Tosti, Bagarella poteva disporre di ben due appartamenti, al quarto e al settimo piano. Nato killer e diventato capo dopo l'arresto di suo cognato Salvatore Rina, Don Lucchino era anche uno scrupoloso uomo d'affari. In uno di questi due rifugi, infatti, i 007 della direzione investigativa antimafia hanno ritrovato una serie di appunti con nomi e cifre. Si tratterebbe di un vero e proprio libro mastro degli affari della famiglia di Corleone, dalle estorsioni al traffico di droga, affari per centinaia di milioni. C'è dentro un significativo spaccato di Palermo, commentava stamane un investigatore. E parliamo della Palermo del 95, Diana Ligorio. Qui, ovviamente, il libro si sofferma molto su questi momenti. E anche molto, se posso dire, colpisce molto, almeno ha colpito il sottoscritto, il pudore e però anche l'orgoglio, entrare dalla porta principale, uscire dalla porta principale, da quella secondaria. Perché? Dunque, loro arrestano Luca Bagarella. Lo arrestano in una via a scorrimento veloce della città di Palermo. Lo fanno uscire dalla macchina, gli puntano la pistola. Nei loro racconti, che mi hanno fatto più agenti, la città intorno continua a vivere. Continuano le macchine a camminare. Lo caricano in macchina, non mettono la sirena. Continuano a rispettare il codice della strada e si comunicano via radio. Stiamo attenti in questo momento, noi non possiamo permetterci di fare uno sbaglio in qualsiasi incidente. L'operazione finisce nel momento in cui noi consegniamo il boss appena catturato al nostro dirigente. Il dirigente, era ovviamente contentissimo, invita gli agenti a fare l'ingresso dal piazzale principale. Loro invece che cosa scelgono? Scelgono sempre l'ombra, scelgono sempre la loro struttura, la loro postura da investigatori. Cioè entrano come sempre hanno fatto dal garage, dal retro. Quindi fino all'ultimo continuano a non volere la visibilità, le bandiere, i riflettori. Questo fa capire che per loro è proprio un modo di vivere, non è semplicemente fare un lavoro. La vita è invisibile, infatti lei la chiama. Stefano? Sì Giorgio, abbiamo sentito, prima abbiamo ascoltato, visto e ascoltato Giovanni Falcone e Paolo si chiede, ci chiede, se le grandi stragi e gli omicidi di Falcone e Borserino siano state manifestazioni di potenza oppure di debolezza della mafia. Mentre Andrea si chiede invece se qualcosa è cambiato e se è cambiato, se è cambiato in meglio rispetto a quegli eventi. Che dice direttore? Omicidi di quel tipo hanno chiaramente tante sfaccettature. Sono sicuramente manifestazioni di potere, cercavano di costringere lo Stato a scendere a patti con loro, ma si sono dimostrate poi alla fin fine che la loro più grande debolezza, perché da lì comincia la decadenza dei corgnonesi, da lì comincia la caccia senza tregua a tutti i capi di Cosa Nostra, della fazione corgnonese. Ci sono evoluti anni, ma sono stati tutti quanti arrestati. Direttore, volevamo farle vedere un articolo da Repubblica di oggi, tutto esaurito al 41 bis, i boss in lista d'attesa evitano il carcere duro, che insomma ci ha colpito francamente. Che dice direttore? I problemi carcerali sono problemi complessi. Il 41 bis richiede degli spazi, si richiede delle strutture dedicate, per cui non c'è un numero inibitato di posti, per cui c'è una certa difficoltà a far inserire numeri troppo alti. Queste difficoltà si evidenziano con la necessità probabilmente di avere nuove strutture, ma non è di facile soluzione. C'è una lista di attesa, man mano che si liberano i posti vengono inseriti gli altri. Tra l'altro direttore, volevamo sentire la sua opinione, la sua riflessione anche su quello che sta accadendo a Roma negli ultimi settimane. Tra poco vedremo un servizio, però c'è un'altra domanda che volevo fare a Diana Ligorio che riguarda la comprensione della mentalità mafiosa da parte degli agenti della DIA, perché è sempre complicato, anche quando li intercettano. Assolutamente. Loro fanno un'operazione secondo me straordinaria e dal punto di vista per me letterario estremamente affascinante. Cioè loro entrano nella mente del mafioso. In che modo? Intanto vivendo come vivono loro. Cioè gli agenti fanno la stessa vita dei latitanti perché è l'unico modo per poterli catturare. E poi l'altro modo per entrare nella mente dei boss e dei latitanti è ascoltare le intercettazioni, che può sembrare un'attività estremamente noiosa. Però quello serve per conoscere la loro vita, aspettare il momento di debolezza, conoscere anche i pensieri da cui vengono mosse questi agenti. E' un'attività estremamente stancante, però effettivamente una risorsa preziosissima e che non può essere sostituita in alcun modo. C'è da dire anche che in quegli anni, quando è stata messa la microspia nel covo di Leoghetti, loro non sapevano che c'era uno strumento così potente, però non si aspettavano che gli investigatori fossero così bravi da poterla piazzare lì. Quindi loro parlavano in assoluta libertà. Oggi è completamente diverso. Tutti si aspettano di essere intercettati, quindi le difficoltà si complicano. Non so se il direttore della DIA possa risponderci, voglia risponderci. Ma insomma, che succede a Roma? Guardiamo queste immagini e poi questa è la domanda. La mappa dei delitti nella Roma della periferia si snoda tra Centocelle e Casal dei Pazzi, passa per l'Esquilino e scivola verso la Magliana. L'ipotesi sembra essere sempre la stessa, la conquista del mercato degli stupefacenti. Luigi Finizio, 51 anni precedenti per droga, era il fratello di Gerolamo condannato due anni fa per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e legato con il clan senese. Emanuele Costanza, lo chef dell'Esquilino, ucciso venerdì scorso in auto. In questo caso c'è un reo confesso, Fabio Giaccio. L'8 marzo è stato freddato in strada Michael Stefan Roman, muratore di 31 anni. La dinamica è la stessa dell'assassino di Finizio. È stato avvicinato in strada da due persone in motorino, poi gli spari fatali. Anche Michael aveva piccoli precedenti per droga. E come non pensare alla morte di Francesco Vitale? Il PR barese è sequestrato e torturato in un appartamento alla Magliana e precipitato nel vuoto. In questo caso ci sono due persone in carcere. Forse un delitto per droga che non aveva potuto pagare. Direttore, non so cosa possa dirci. Ma si può dire tanto. Ormai sono anni che le mafie sono presenti su Roma. Non soltanto la mafia a Camorra napoletana, ma l'andrangheta camabrese, cosa nostra siciliana, con esponenti di spicco che hanno vissuto per tanti anni a Roma. Ma Roma conosce da decenni a banda della Magliana a cui oggi poi si aggiungono i clan del litorale, i clan rom stanziani ormai su Roma. Il traffico di stuprocenti è quello che muove tanti soldi, tantissimi soldi in una città immensa come Roma dove c'è tantissima richiesta di cocaina e di hashish. Ai clan nostrani sono subentrati adesso anche i clan albanesi che si fanno largo, si fanno spazio in questa città e quindi a volte si creano dei contrasti sul territorio. Mi permette di ricordare che la DIA pubblica semestralmente o annualmente? Semestralmente. Un rapporto che è utilissimo per capire quello che accade sul fronte della criminalità organizzata nel nostro paese. È venerdì, Arnaldo Conasalti, come sapete ci parla di romanzi che meritano la nostra e speriamo la vostra attenzione. Il Dio disarmato di Andrea Bomella è un romanzo dedicato a Viafani, alla strage e al rapimento di Aldo Moro, ma non è un libro di storia o di istruttoria, è un romanzo che vuole parlare di una cosa precisa, quei tre minuti, i tre minuti della strage, che sono narrati dai vari punti di vista, quello di Aldo Moro, quello dello scrittore, quello di un testimone, di tutti in fondo. E questi tre minuti corrispondono ai tre secondi che ha sempre il carnefice quando sta per attaccare la vittima. Questi tre minuti e secondi. E questo indica in fondo la paura, come condizione del romanzo, come condizione del racconto. Ecco, la paura è in fondo la vergogna. Noi abbiamo avuto anni di terrorismo che ci hanno dato una paura terribile a noi come società, ma abbiamo avuto anche quegli anni della mafia, forse ce l'abbiamo ancora, in cui la paura è la vergogna di non sapere cosa fare. La vergogna quando uccisero il piccolo Claudio durante il maxiprocesso degli anni Ottanta. La vergogna che troviamo nel libro di Pomella di il giornalista che gira per cercare di capire qualcosa e non capisce davanti a quella strage. O lo scrittore che torna tanti anni dopo per scrivere questo romanzo a Via Fani e descrive quello che vede. Allora, che cos'è la paura? La paura è polverizzare il tempo, è rompere le parti del tutto. E il finale del romanzo ci dà un'indicazione precisa di questa paura sociale, che è stato il terrorismo, che è stata in qualche modo la mafia. Quando un testimone vede in lontananza al mattino i cinghiali, un fenomeno, ahimè, molto consueto nella nostra città. E questi cinghiali corrono e hanno il movimento dei corpi che cadono, quelli di tanti anni prima. La paura è quel rumore fosco di quei cinghiali che sono ancora nella nostra anima di cittadini.